il bambu non vedo no io ve lo dico seriamente le madri ogni piccolo dubbio perchè lì non svolta nessuno quello è il mio parante mi sono fatto proprio così guarda mi piace lì non schiacciare con tutti i giorni pure il cielo lo stava pure il è vero e vuole dire che sono così così ma è vero se no hai fatto proprio così è possibile è venuto per di no il non l'ho fatto è proprio possibile se no io non l'ho fatto no 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 è strunzo è strunzo uscire lo state facendo una gialla con la storia ecce no l'annuncio fa cazzo ma a mio padre e a mia madre gli piace essere sinceri e 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 Non vada così. Quello che pensiamo lo diciamo avvertamente, senta per i strumenti, cosa faccio? E cosa malamente? Soprattutto che malamente. Ma non ti prende le cose, non ti devi prendere questo pensiero. E perchè io sono troppo forte, ne ho saputo tutto quanto, che la verità del primo compi viene sempre a compi. Non può pulire quel compi a me. Ehi, 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 geniale. Ehi, ma qua, poi, lasciamo stare, lasciamo stare, e poi lui dice, io mi spuso a te, e beh, ma io mi spuso a stare tutto qua. un bel incastato a papà a 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